perché poi su tre versi si può stare ore e ore e ore per il manducatio, insomma, come voi sapete bene, per fare il manducatio anche di questo straordinario testo. Se voi andate alla pagina, non so se voi l'avete 4 o 5, perché la mia disperzina adesso ha aggiunto delle cose, dove dico la vita integra, provate a vedere se è 4 o 5, 5, la vita integra, ecco a un certo punto Dante è un paradiso esclavo, gioia o ineffabile allegrezza, o vita integra d'amore e di pace, o sanzabrama sicura ricchezza. Ecco qui ci sono già, come dire, tutta una serie di tematiche dantesche, che è il primato dell'esperienza della vita, della grande vita, una vita rinnovata, una vita d'amore e di pace, una vita nella quale la gioia e la felicità sono fondamentali, e poi vedete, o sanzabrama sicura ricchezza. Chi conosce un po' Dante sa che il tema delle ricchezze in Dante è centrale, è un tema polemico. Cioè Dante ha una visione delle ricchezze che, ma in fin dei conti, come voi sapete bene, insomma, perché siete, come dire, navigatori privilegiati di questi mondi, ma è solo da un po' di secoli a questa parte che parlare di povertà sembra qualche cosa, come dire, da irritarsi. Invece la povertà è un tema centrale nel mondo dantesco, che le ricchezze sono guardate con sospetto nel mondo dantesco, tanto più l'accumulo di ricchezze. Le ricchezze poi non sono guardate con sospetto in sé, ma sono guardate con sospetto nella dialettica con la povertà, perché le ricchezze accumulate da una parte provocano una povertà subita dall'altra. E poi c'è invece un valore positivo della povertà, che è distinta da Dante e dalla miseria. E quindi è molto interessante anche questa cosa, no? Notate tutti aspetti che sono perduti nella cultura dominante. La povertà è identificata con la miseria, quindi è una cosa brutta, e solo la ricchezza è in qualche modo celebrata, e si perdono, perdendosi le parole, si perdono le connessioni, e con il mondo, insomma, e con la possibilità di vedere il mondo. Ecco, questi temi che, capite, sono di una straordinaria qualità oggi, anche perché il nostro mondo è assato sull'accumulo di ricchezze. Ecco, e questo potremmo subito dire che per Dante è un mondo lontano dal premio di Dio. È lontano, è un mondo di peccato, un mondo che è assato sull'accumulo di ricchezze, ed è un mondo di strutture di peccato, che sono tecnologie naturalmente non dantesche, queste, ma non c'è dubbio che per Dante è un mondo così. A noi fa, cioè, come dire, oggi sono particolarmente a mio agio a parlare così qui, ma altrove dovrei fare 3.000 precisazioni, proprio perché è la nostra cultura, del resto uno dei libri fondativi della nostra cultura è La ricchezza delle nazioni, Anna Smith, e quindi è chiaro che è tutto un altro mondo, no? E invece il tema della povertà, che naturalmente è un tema cristologico e cristico, attraversa tutta quanta la commedia. Ecco, per cui, insomma, una lettura di Dante che faccia risuonare questi temi criticamente con l'oggi è sicuramente una lettura che può persino sconvolgere, diciamo così. Può sconvolgere, perché da una parte io entro nella mentalità, certo, del mondo medioevale, e quindi dove questi temi invece sono temi, come dire, ben conosciuti, abituali anche nelle discussioni teologiche, spirituali del tempo, però Dante non è solo un mondo medievale, Dante trascende il medioevo, eh? Mario Luzzi dice sempre questo, Dante è pienamente medievale, trascende il medioevo, e quindi ecco che questi temi risuonano per noi con una forza straordinaria. Sono cennie, naturalmente, poi nel dialogo magari questi possono essere temi che sviluppiamo ulteriormente. Il banchetto dantesco è come quello biblico smisurato, eh? Abbondante. Ecco, tra l'altro, come dire, c'è questa cosa di bello anche nel mondo dantesco, che la povertà non è invece in contrasto con l'abbondanza, così come i beni dello spirito. Più sono condivisi, più crescono, a differenza di quegli terreni accumulati, che più vengono accumulati, più diminuiscono per gli altri. Ecco per cui questo banchetto è un banchetto che più tu lo assapori, più è diffusivo di amore, di bellezza, di pace, di vita integra, d'amore, di pace. Ecco perché è una ricchezza senza brama, è una ricchezza senza lupa, è una ricchezza senza cupiditas. Ecco, uno dei punti, secondo me, fondamentali oggi è riscoprire che la mistica di Dante è una mistica critica della cupiditas. Così Dante la chiama nei monarchi alla blanda cupiditas. La seduttiva, la seducente cupiditas. Qui nel poema la chiama ancora più plasticamente la lupa, l'antica lupa, che, come voi ben sapete, adesso vi vedremo anche questi testi celeberrini, compare fin dal primo canto dell'Inferno, che è la magnacarta di tutta la commedia, è l'introduzione, potremmo dire non solo all'Inferno, ma tutta quanta l'opera. Quindi ecco che Dante, come dire, fa di questo tema uno dei cantini del suo, come dire, del suo viaggio, perché laddove domina la cupiditas viene lesa la giustizia e la caritas, come Dante spiega nel monarchia, e la pace. Giustizia, caritas e pace, con fonti che sono bibliche, ma anche aristoteliche, per esempio. Questo tema della dismisura è anche un tema naturalmente della sapienza greca. In fin dei conti l'accumulo di ricchezze va contro la metriotes, la mesotes, diventa un cattivo infinito, diremmo con terminologia del grande Hegel. E quindi Dante intuisce, intuisce in un modo veramente piuttosto incredibile, anche devo dire la verità, meno per me, piuttosto incredibile, intuisce anche i cambiamenti del suo tempo e li fotografa criticamente. Cosa che, poi smetto con queste chiacchiere che leggiamo, cosa che non è il dolore per la critica dantesca stessa. È da poco tempo, anche con qualche eccezione, naturalmente grazie al cielo, che si riscopre, come dire, la pregnanza critica di questa visione dantesca, perché sennò Dante è stato un po' disinnescato come reazionario nostalgico del passato. Dante è reazionario, quindi in qualche modo non capisce il progresso, ma Dante capisce bene, solo che non è detto che ciò che arriva di nuovo sia buono. Quindi Dante sottopone a una critica, potremmo dire, spirituale, etica, ma io direi cristica, cristologica, questi temi. Ecco perché, quindi, Dante non è un laudato al tempo risatti, anche se nella commedia ci sono cenni di idealizzazione di alcuni aspetti del passato, ma che sono usati come topoi letterari. In fin dei conti anche Sallustio, come delle fonti, per esempio, di Dante, quando parla di Roma, idealizza la Roma antica rispetto alla Roma devastata appunto dall'avarizia, come la chiama Sallustio. Quindi è vero che ci sono questi aspetti, ma Dante si rende conto che le strutture del passato, per esempio quelle feudali, si stanno disintegrando, non sono delle strutture giuste, ma si rende conto che stanno nascendo nuove strutture economiche che ancora di più saranno assate sulla cumulo della ricchezza e che queste strutture sono molto pericolose. Ecco quindi che, come dire, il poeta è engagé, potremmo dire, in quello che era un abatto, uno straordinario cammino interiore mistico che Dante fa. Quando Dante scrive, penso che voi l'abbiate all'ultima pagina, il ritorno nel luogo laddove io sono, risponde alla Vico Casella, per tornare altra volta laddove io sono, voglio questo viaggio. Per tornare un'altra volta, una seconda volta, laddove io sono, che letteralmente vorrebbe dire qui in purgatorio, quindi sto facendo questo viaggio una prima volta, ma io poi dovrò tornare qui da morto. Ecco, tra l'altro capite che questo è un punto già straordinario della commedia, c'è Dante che fa questa esperienza da vivo, con il corpo fisico, non solo in patria, come diceva Tommaso, ma in via, da viatore, e quindi, insomma, e questo era un punto molto delicato al tempo, molto delicato, queste questioni, come voi sapete, erano questioni dove si poteva rischiare molto, insomma, anche il rogo, anche i roghi di cui Dante parla, e Dante chiaramente non è eretico come va di moda oggi dire, Dante, anzi, è pienamente cattolico, nel senso universale, bisogna recuperare il sensus plenior che Dante ci riporta, non un aspetto eretico di Dante, a me non convince per niente, né dal punto di vista testuale, anche se Dante è attento anche alle voci ereticali, senza alcun dubbio, quindi Dante è attento a tutto, è inclusivo nel suo sguardo, probabilmente Dante è attento anche a quello che io chiamo il frammento catalo, ma questo non vuol dire che Dante sia catalo, un problema di moda oggi dire, assolutamente no, Dante non è catalo, per tutta una serie di motivi, che adesso non è il caso che mi metto a spiegare, però Dante è attento anche al frammento catalo, perché scopre che ci sono, cioè capite, questa idea, in fin dei conti, di tenere insieme la mistica, la critica, la politica, di tenere insieme Tormazzo e Bonaventura, Sigeli di Brabante e Gioacchino da Fiore, non in un curri new age, evidentemente, per tante mi fulmina, tipo queste cose, ma in un'attenzione spirituale, intellettuale, mistica, quasi alcune volte di coincidenze, è oppositorio, Bonaventura che elogia Gioacchino da Fiore, con il quale si è scontrato durissimamente in vita, Tommaso che elogia Sigeli di Brabante, un aristotelico radicale come Sigeli, e Dante tiene insieme i frammenti di verità, che vede in questi pensatori come una straordinaria audacia. Questa è una tensione paradisiaca, perché in terra Tommaso e Sigeli si sono scontrati, adesso in paradiso Dante li rappresenta, così come devono essere, cioè come due straordinari indagatori del mistero della verità, di cui hanno conto delle scintille, dei frammenti, o anche una totalità della verità, nella relazione che loro avevano con questa verità, e Dante però le tiene insieme, tiene insieme. Io credo che qua ci sia dietro proprio il dogma di Calcelonia, anche Totus in Suis e Totus in Nostris. Ecco dove Dante tiene insieme tutto Tommaso e tutto Sigeli, non Fildi, Fildi. E questa è la tensione, o appunto la trinità stessa che non è triteismo, e quindi si tiene insieme anche l'infinita differenza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e la loro trinità. Anche, cioè queste cose in Dante è come se sono importanti, come se è importante la Cristologia, come se è importante la Trinità. Al di là, non al di là, riecheggiata anche dal metro, genialmente da Dante, consegnandoci. Allora, vi dicevo, questo verso, per tornare altra volta laddove io sono, però notate anche, noi potremmo leggere questo testo anche per tornare altra volta laddove io sono, e voi mi, io sono, prima che Abramo fosse, io sono. Ecco, la luce cristica brilla nella Commedia, direi veramente, non dico in ogni signora, ma qua c'è un io sono, che è già, ci sono altri punti in questo, per tornare un'altra volta laddove io sono, perché questa è una possibilità dell'essere umano, di poter dire io sono nel grande io sono del Cristo, e di essere figlio nel figlio. io faccio questo viaggio per diventare eco di io sono, per poter dire io sono, per poter esprimere con il mio corpo, con la mia anima, e con la mia mente, con il mio spirito, questa antropologia tripartita, dantesca, l'eco appunto di io sono. Ecco, allora capite che questo, questa, come dire, questa mistica dell'io sono, per esempio, che attraversa la Commedia, sta insieme però con le denunce, e con le critiche dantesche, che uno dice, magari quando Dante denuncia così, perde l'io sono, noi siamo quasi portati a dire, eh, accidenti, ma Dante, guarda qui, si è lasciato prendere, no? e invece probabilmente no. E invece probabilmente no. E non a caso, tra le stazioni del Gesù storico, presente nella Commedia, c'è la cacciata dei mercanti dal Tempio, citata da Dante, non è l'unica, naturalmente, però, ecco, è interessante anche sottolineare questo, anche qui, Dante tiene insieme delle cose che non sempre sono facili da tenere insieme, intanto per le vite spirituali delle persone, e anche forse per le teologie, Dante tiene insieme sicuramente una grande centralità del Gesù storico. Il Gesù storico percorre la Commedia, anche se Dante non incontra Gesù. non incontra Gesù nella Commedia, no? Tanto che questo ha fatto dire a Balthasar, non solo questo, che in fine dei conti Cristo è assente dalla Commedia. Non sono assolutamente d'accordo con il grandissimo, con Balthasar, mi permette di sentire, da un grande teologo sicuramente, molto più bravo, e molto più capaci di me, non sono per niente d'accordo. Certo, Dante non incontra il personaggio storico di Cristo, ma peraltro Dante non incontra neanche Francesco e Domenico direttamente, per esempio. Francesco e Domenico sono raccontati. Quindi Dante non incontra il personaggio del Gesù storico, che però è presente in, come dire, in tanti riquadri, in tante icone, si potrebbe dire della Commedia, è presente con le nozze di Cana, è presente con la cacciata del Tempio, è presente con la trasfigurazione in più punti della Commedia, è presente sulla croce, è presente risorto, ma ci sono tanti medaglioni del Gesù storico. Dall'altra, Dante non cade in una gesulatria, come la chiamava Amica, e quindi la luce che pervade la Commedia è quella del Cristo risorto, e quindi il cammino di Dante è una cristificazione. Il cammino di Dante è una cristificazione e la cristificazione ho bisogno anche di, come dire, di leggerla con Gesù Cristo storico e risorto, e quindi il Gesù della mistica. In fin dei conti questo voi lo vedete fino al primo verso, nel mezzo del cammino di nostra vita. Nel mezzo del cammino di nostra vita, a 35 anni, dicono i nostri commenti, va bene, d'accordo, sì, però non solo, nel mezzo del cammino di nostra vita è già un verso che racchiude tanti misteri per la Commedia. intanto un dandista importante che si chiama Gorni riteneva che quel nel mezzo riecheggiasse il principio, soltanto che Dante lo ha fatto più popolare, in principio, in principio Bereshit e in principio Giovanni, uno, uno, è nanchè, Bereshit è nanchè, e diventa nel mezzo. E quindi, capite, molto interessante, naturalmente, questa è una riscrittura biblica, la Commedia è forse la più grande riscrittura di tri-scrittura con la S maiuscola, no? È una riscrittura, è una imitatio Biblie, e quindi, questo, gli echi biblici sono dall'inizio alla fine assolutamente centrali nel testo biblico. però andiamo avanti, c'è probabilmente riecheggiato Bereshit, appunto, l'enarchè, ma nel mezzo del cammino di nostra vita è già pieno di echi cristici, tanto vita, io sono la via, la verità e la vita, eh? Se voi riguardate i primi dodici versi, poi magari lo facciamo insieme, compare la diritta via, verace, eh? Quindi abbiamo la via, abbiamo la vita e abbiamo la verità. E nel mezzo del cammino di nostra vita è già il centro del cammino della nostra vita, quindi Cristo. anzi, io spero poi di non scandalizzare nessuno, ma credo che questo nel mezzo sia non solo il Cristo, ma sia Maria anche. Nel mezzo del cammino, nel centro del cammino della nostra vita, il tema mariano è in parte da scoprire dalla commedia, perché capite, questa è una cosa straordinaria, nessuno riesce a leggere ciò che è scritto su Dante, neanche un dantista riesce a leggere, devi fare, devi scegliere, perché c'è troppa roba, no? Quindi, chiaro, queste sono affermazioni sempre, poi magari qualche libro su questo, c'è, però la mariologia dantesca, la mariosofia dantesca, secondo me, è qualcosa ancora da esplorare nella sua straordinaria potenza, perché non c'è dubbio che questo cammino dove il Cristo è presente fin dal primo verso, nel mezzo del cammino di nostra vita, nel Cristo, centro del cammino di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura che la diritta di era smarrita. E, se volessimo andare alla fine, così insomma vediamo un po' di aspetti cristici della commedia, credo che siate sempre all'ultima pagina, la nostra effigie, quella circolazione che si concetta pareva in te come lume e reflesso dagli occhi miei alquanto circunspetta dentro da sé del suo colore stesso parve pinta della nostra effigie, perché il mio viso in me in tutto era messo. La nostra effigie, la nostra icona, è il giro Cristo stesso. mi parve pinta della nostra effigie, notate che questo verso come è stato anche notato riecheggia un po' nel mezzo del cammino di nostra vita, mi parve pinta della nostra effigie, eh? Nostra effigie, nostra vita. E siamo alla fine della commedia quando Dante al centro del mistero trinitario vede la nostra effigie che naturalmente è anche una capite, una terminologia molto aperta per dire questo perché Dante dice la nostra effigie e quindi anche il nostro volto in verità. Quindi Dante vede il suo volto nel Cristo, Dante vede il suo volto e vede il volto dell'umanità. Non bisogna mai dimenticare che Dante rappresenta se stesso e l'umanità in questo cammino, eh? Non rappresenta soltanto se stesso. Nel mezzo del cammino di nostra vita, non di mia vita. Qui c'è tutta la sapienza di Dioale. La nostra vita. Poi mi ritrovai e la nostra effigie, nostra vita, nostra effigie. Capite? In qualche modo che già nel primo verso ci sia il Cristo, lo posso capire per il lettore. L'esperienza lo capisco qua, dico, ma fora la nostra vita, la nostra effigie. Dante è anche un geniale narratore, e quindi ci porta anche, direi, direi anche con un sasphons a fare queste scoperte, no? Lui stesso come personaggio queste cose le scopre via via. Il poeta le sa già, il Dante poeta sa già queste cose, il Dante personaggio, così come noi, le scopre cammino a centro e quindi ecco che la nostra vita è la nostra effigie. Però, appunto, anche il principio Maria è importante nella commedia perché il viaggio inizia da Maria. È Maria che frange il duro giudizio di Dio che vorrebbe, come dire, perduto il nostro Dante. È Maria già in inferno due che è la donna gentile e il cammino di Dante arriva a Paradiso 33 naturalmente con un straordinario inno alla Vergine. Per cui a me sembra che il cammino d'Altesco sia classicamente un imitatio Marie et Christi meglio un assimilatio Marie et Christo. È un'assimilazione a Maria e a Cristo. Quello che Dante compie nel 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 suo capito è la centralità di Maria pienezza dell'umanità è proprio è il marianizzarsi di Dante in tutto il capito. Maria sotto alcuni punti è più presente del Cristo. Si potrebbe anche dire così Maria più presente del Cristo. E quindi questo è straordinariamente interessante dal punto di vista insomma credo del cioè la figura il mistero di Maria nella commedia è veramente uno dei punti più più utrienti. Questo è proprio un libro che va vissuto perché credo che Dante abbia qui donato a noi nel suo cammino quello che lui aveva anche vissuto. Vi faccio vedere questa cosa anche perché allora ci vediamo se lo trovo dove parto del marianizzarsi è così credo a pagina 4 va bene intanto mi citavo donna gentile che nel cese si compiange di questo impedimento o mi ottimando si che duro giudizio giudicio la suffrage quindi Maria che frange il duro giudizio come dire l'aspetto sì l'aspetto del rigore l'aspetto della giustizia divina e qui Maria sembra rappresentare il lato della misericordia quindi molto potente questa cosa e guardate in paradiso 31 invece credo che sia il paranetto che trovate dopo si riferisce a Maria così quella pacifica oria fiamma nel mezzo s'avvivava ed ogni parte per il qual modo allentava la fiamma e a quel mezzo siamo al centro dell'Empireo notate come Dante chiama Maria oria fiamma che era lo stendardo che la casa di Francia innalzava in guerra e Dante la chiama pacifica oria fiamma qualcosa anche questo di cioè naturalmente probabilmente in questa oria fiamma ci sono credo che Dante abbia scelto anche questo termine per motivi poetici no? c'è dentro dell'oro c'è dentro della fiamma in questo in questa parola pacifica era lo simono quindi in qualche modo è lo simono questo e nel mezzo s'avvivava vedete che torna quel del mezzo quindi tra l'altro Maria riluce nel centro dell'Empireo e nel mezzo nel mezzo nel cammino nel mezzo il principio il principio Maria pervade tutta quanta la commedia ecco questi sono cenni io sto perdendo il senso del tempo posso parlare ancora una ventina di minuti circa va bene poi dopo magari iniziamo con un po' il dialogo ecco allora questo come dire ho provato ad accennare alcuni aspetti forse in modo un po' frammentario di alcuni aspetti della mistica di Dante ecco tra l'altro tenete conto che la mistica di Dante è proprio animata dal colligite fragmenta giovanmeno raccogliete i frammenti per cui questo è anche un aspetto lo citavo già prima questa tensione di tenere insieme gli opposti o tenere insieme cose che sembra che si faccia fatica a tenere insieme è connotato da Dante con un colligite fragmenta questa è l'immagine per esempio che domina i primi capitoli del convivio quando Dante si presenta come colui che raccoglie le briciole di pane che scendono dal tavolo dei tutti e Dante raccoglie queste briciole di pane e le tiene insieme sicuramente Dante sta ecceggiando Giovanni e quindi il colligite fragmenta che è anche un lemma panicariano panicaro usava spesso il colligite fragmenta come la necessità di tenere insieme i frammenti anche delle esperienze dell'umanità addirittura dice la Panica per le esperienze spirituali dell'umanità tenere insieme nessuno deve avere la pretesa di cogliere il mistero dell'umanità in totum in totum eh solo pars o forse totum in parte ecco è giusto rivendicare la totalità della propria esperienza ma sapendo che forse è un totum in parte e quindi la mistica di Dante è una mistica che tiene insieme le briciole quindi tiene insieme la briciola mistica tiene insieme la briciola critica tiene insieme la briciola politica ecco adesso su questi due termini di critica politica dico qualcosa allora vi dicevo fin dal primo cap e intanto la politica beh il mondo dantesco è un mondo dove la dimensione politica è una dimensione reggia cioè una dimensione questo non è un viaggio intimo tanto meno un viaggio intimistico interpretare la commedia come un viaggio intimistico è tutto si può fare e io posso gustarmi questo aspetto del diamante di unico c'è una straordinaria inferiorità nella commedia ma non è intimismo è nel mezzo del cammino di nostra vita appunto della nostra vita della vita che comprende tutti i viventi come Dante dice nell'epistola 13 a can grande lo scopo della commedia è rimuovere viventes inat vita destat miserie et perducere eos attestat infelicitatis quindi liberare rimuovere i viventi mi colpisce sempre questa assonanza dell'epistola can grande vita i viventi non solo homines i viventi tutto ciò che è vivo la mistica di Dante è anche una mistica della liberazione quindi è una mistica della liberazione quella di Dante è una mistica esotica per questo l'esodo è riecheggiato anche qui fin dal primo canto quando Dante va per la diserta piaccia quando Dante incontra il Mosè di Ergilio e esce dall'Egitto nel quale si trova la dinamica dell'esodo ma naturalmente l'esodo è un'esperienza per Dante non solo mistica ma anche critica e politica si critica nell'Egitto si pensava a una terra dove ci potesse essere qualcuno di migliore del faraone soprattutto quello che si era dimenticato dei rapporti con Giuseppe e quindi faceva strage dei bambini degli innocenti e quindi il paradigma per Dante è che poi dopo per noi queste categorie si siano come dire un po' spezzate specializzate e invece in tante stanno insieme ecco quindi la politicità dantesca è presente fin da questo cammin di nostra vita tanto che in paradiso 8 credo che sia pagina 3 terza colonna l'uomo Cive giusto? Carlo Martello chiede a Dante onnelli ancora ordini sarebbe il teggio per l'uomo in terra se non fosse Cive ci potrebbe essere qualcosa di peggiore sulla terra se l'uomo non fosse Cive Cibis cittadino si risposi e qui ragiona con teggio non c'è bisogno che io chieda ragione per capire che non può darsi un uomo impolitico certo naturalmente è chiaro che la politica dantesca non è Guetti di Bellini che pure Dante ha conosciuto la dimensione politica dantesca intanto è questa come dire è questa è questa visione che intanto include tutti i viventi ecco a me ogni tanto mi piacciono lo vedete questi accostamenti un po' un po' udaci ogni tanto ti viene da citare l'omicrazia di Aldo Capitini quando non solo non parlava di democrazia Aldo Capitini ma parlava di onicrazia cioè della partecipazione di tutti di tutti i viventi a questo cammino oppure mi viene in mente ancora Raymond Vanicar quando diceva che sognavo un concilio Gerusalemme II nel quale sarebbero state invitate anche le pietre le piante le tigri e gli elefanti credo che voglia dire invitare tutti i viventi invitare tutti i viventi al banchetto della vita ecco quindi la politicità di Dante ha questa visione cosmica potremmo dire cosmica del Cristo cosmico anche quando parliamo del Cristo mistico è il Cristo cosmico che domina in qualche modo la commedia e il trasumanare di Dante è dentro appunto il mistero del Cristo cosmico del Cristo risorio del Cristo eucaristico ecco quindi questo tema della politicità fa sì che la politicità di Dante poi non sarà solo Inferno 6 Ciacco Firenze Purgatorio 6 Sordello e Aiserba Italo Paradiso 6 Giustiniano L'Invero certo che sì ma la politicità di Dante poi Dante scende anche come dire in campo in senso dantesco però e prende posizione struttura anche utopie politiche precise come quella dell'Inpero critica durissimamente Firenze Civitas stiavoli perché è la città dell'accumulo perché è la città dell'accumulo perché in Firenze si sta vedendo il nuovo paradigma economico che sta nascendo la città della dismisura eccetera 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 allora come era difficile forse dare ragione a Dante che deve veramente sembrare come dire uno che non vedeva il progresso che stava avvenendo e oggi dici mamma mia però Dante forse che occhio lungo avevi visto giusto nell'evidenziare che se diventava al centro se si metteva al centro questo cattivo infinito si rischiava di perdere anche il vero infinito ecco quindi questo per dire che il tema politico è il tema del bene comune bono comune che conoscono i medievali è il tema della polis è il tema dell'umana civitas o dell'umana civilitas come Dante lo chiamano come un'acchia questa è la politica di Dante al centro dell'umana civitas la pace l'amore la giustizia non solo come virtù individuali ma come virtù politiche cioè come virtù che in qualche modo preannuncia il regno senza naturalmente esaurirlo e senza pensare che il regno possa millenaristicamente essere tutto qui certo che no ma dall'altra preannunciato ecco vedete quindi come politica e critica si tengano insieme e quindi i versi celeberri prima pagina 49 seguenti ed una lupa che di tutte brame sembiava carica nella sua magrezza e molte genti feccia viver grame portate anche qui non è la povertà questa grame misere la lupa dell'accumulo fa vivere molte genti molti popoli grandi e siamo in quello che alcuni storici alcuni interpreti chiamano il proprio capitalismo fiorettino un isolotto voglio dire tanto si scaglia contro qualcosa che è un inizio c'è una discussione storica tra gli interpreti se questo possa essere già chiamato un primo capitalismo oppure no e così via la maggior parte degli interpreti tende a dire di sì naturalmente Dante non usa questo termine perché è un termine che verrà dopo però qui c'è la nascita del fiorino la prima finanza le banche un primo capitalismo monetario manifatturiero una prima accumulazione originaria potremmo dire che Dante intraveve e che raffigura della lupa quindi la lupa non è solo la durissima polemica dantesca contro la cuglia romana che c'è perché la cupiditas è un male che pervade tutte le istituzioni dantesche quindi certo pervade anche la chiesa la chiesa è la prima vittima potremmo dire della cupiditas però capite che il tema della cupiditas in Dante anche qui è molto articolato nel parlamento dantesco il tema della cupiditas e così è l'aspetto critico che mette un po' a fuoco allora Dante cioè Dante è una coscienza ecco l'altra cosa che a me colpisce sempre studiando Dante è che Dante è un mistico che mantiene una straordinaria lucidità ma certo è chiaro che è un mistico anzi probabilmente più lucido di una persona che lo vive questo aspetto però nella come dire nella ricezione abituale dove mistica non gode di buona fama quasi che sia una cosa un po' irrazionale un po' di nostre visioni eccetera eccetera quindi perde il logos e tutto quanto Dante ha questo ampliamento della vita questo approfondimento della vita questo vivere integramente integralmente e allora il logos non sarà certo di dedicato c'è una straordinaria lucidità allora che cosa significa questo che quando Dante descrive il tema della cupiditas senza come dire dedicarci un capitolo come sto facendo io ma all'interno del grande del mare magnum della commedia tu vedi che c'è una sorta di teoria critica sulla cupiditas la cupiditas da una parte è una dimensione come potrei dire diacronica della vita potremmo dire da caino in avanti e infatti Dante fa esempi di cupiditas che vengono dal mondo biblico che vengono dal mondo romano dal mito greco latino romano remida per dire oppure dalla storia romana crasso oppure dalla bibbia quindi la cupiditas dalla parte è una tentazione costante dell'essere umano la cupiditas pervade la chiesa l'origine di questo l'accumulazione originaria il peccato originale di Dante della chiesa è l'accumulazione di Costantino che Dante come sappiamo crede vera ma contesta nell'essenza anche perché la chiesa è valguardo della povertà e quindi il tradimento potremmo dire della chiesa che è sempre letto da Dante come indignità come dire di chi la occupa non della chiesa in sé c'è sempre questa visione anche straordinariamente dialettica di Dante dove la critica per esempio che Dante fa la chiesa torni molto più forte di quella di San Bernardo sembra più vicina agli eredici quella di Dante però Dante non rinnega quella chiesa anche qui un'altra tensione straordinaria del pensiero dantesco le critiche che Dante fa somigliano più a quelle dei Catari anche Bernardo è l'uno però è un po' più diplomatico invece Dante no insomma sapete anche naturalmente la sfilza di Pappi tutti i contemporanei che sono all'inferno poi faccio Tavo Clemente V Giovanni XXII cioè a dire come faccio sempre notare mettere all'inferno i più potenti uomini della Terra quindi il corrispettivo oggi sarebbe mettere all'inferno ma probabilmente non il Papa ma altre persone cioè questo è anche il punto capite che insomma questo è forte molto forte quindi Dante ha questi toni durissimi dall'altra però senza mai mettere in discussione il mistero della Chiesa e pensando sempre che questa ecclesia sempre riformata in fine conti la Commedia è anche un libro scritto appunto per un'ecclesia sempre riformata Casta et Beretrix anche se Dante mette molto in evidenza il Beretrix però c'è sempre questo altro aspetto quindi allora vi dicevo da una parte questa cupidita s'ha preso la Chiesa attraverso qualcosa di dire non è proprio capitalismo quello della Chiesa quindi la cupiditas non è solo il protocapitalismo è una dimensione diacronica che si storicizza però in situazioni per esempio la donazione di Costantino nel caso di Firenze invece Firenze diventa patria del protocapitalismo quindi la lupa dantesca è una lupa protocapitalista ecco che allora la critica di Dante diventa una critica appunto a una cupiditas che non è più soltanto un vizio intanto vedete non solo interiore certo che è dall'interiore che nascono tutte queste cose ma questo diventa poi un dissesto politico un sistema politico che segue la cupiditas non può che essere un sistema che deraglia da tutte le parti quindi la Chiesa traligna e segue la cupiditas Firenze si costruisce sull'accumulo l'impero l'altra grande istituzione dantesca è in bella è vacante anch'esso in alcuni casi segue la cupiditas in altri casi appare indebolito e non più consapevole della sua missione storica il nascente stato nazionale francese è invece un emblema di una cupiditas di potere e di rinchezza Filippo il Bello ecco allora vi vedete come Dante delinea una teoria critica del suo tempo potremmo dire una critica fortissima della real politica del suo tempo che Dante da un animo che non è ad una meta conosce cioè Dante sa fare una critica come dire da permettetemi l'audacia da materialismo storico anche se Dante non è solo quello però Dante è come se conoscesse già il principe prima che sia stato scritto quindi sa che per leggere la politica devi anche avere in mano il principe perché la politica ragiona anche con quella modalità ai nomi di real politica e quindi Dante la denuncia quindi ecco la la denuncia della lupa che affama e allora capite che il discorso insomma in qualche modo della cupiditas potremmo dire ancora meglio che la cupiditas da una parte interiore dentro ciascuno di noi impedisce anche il viaggio dell'io solo impedisce la cristificazione di ciascuno di noi la cupiditas dall'altra è diatronica pervare l'umanità e dall'altra si è storicizzata in un sistema si sta storicizzando in un sistema di cui noi adesso vediamo le ramificazioni ovunque quindi per me il discorso è molto importante anche il discorso storico di storicizzazione oggi mica che Dante ha previsto questa roba qui ovviamente no ma è importante storicizzare oggi il messaggio di Dante anche qui incredibile come Dante sappia tenere insieme la mistica potremmo dire oltre il vino della storia per citare ancora Panker con la storicità e la storicizzazione tutte quelle cose tiene insieme Dante attentissimo più Dante vive estasi paradisia che più guarda la iuola che ci vende così feroci e la osserva con lucidità non è mai un'evasione da questi temi quella che Dante fa ecco se riguardiamo sempre anche con come dire gustando anche gustando le denunce dantesche perché anche queste vanno gustate molte gente i fagioli di vergare questa mi posse tanto di granezza notate anche come questa questa lupa appesantisca gravezza è un appesantimento materialistico con la paura che uscì a di sua vista è un sistema basato sulla paura che io perdei la speranza dell'altezza io perdo la speranza di verticalizzarmi di cristificarmi di arrivare sul colle che ho intravisto che è figura del monte del purgatorio è figura dell'Eden dove io posso tornare l'Eden è una natura umana integra che in Cristo posso recuperare ferita non ferita ma in qualche modo risanata e qual è quei che volentieri acquista e giugna il tempo che perderlo facce che in tutti i suoi pensieri piange e sa trista l'avaro guarda caso la similitudine descrive un avaro che si è accumulato tutto e quando perde tutto poi è triste perché questi venti re non sono garanzia di gioia varrebbe la pena di ricordarlo al nostro tempo di questo che perde se stesso ma non solo moralisticamente antropologicamente perde se stesso oltre che si mette in una struttura di giustizia sociale perché ciò che si accumula di qui è tolto di là questi beni sono pochi e comunque sono finiti a differenza appunto di quelli dello spirito tal mi fece la bestia senza pace questa bestia l'accumulo è senza pace vuole accumulare senza di più ma dall'altra tale mi rese questa bestia come mi rese tale senza pace quindi la bestia è la bestia dell'accumulo che vuole sempre accumulare dall'altra come rende me rende me senza pace senza pace è attributivo preditativo quindi può essere riferito solo la bestia o può essere riferito a tal è predicativo dell'oggetto come si diceva nella buona analisi logica che oggi è sempre più difficile fare che venendo mi incontro a poco a poco mi ritigneva dove il sol tace da una parte mi rispinge nella selva oscura dove non c'è il sole mi rispinge con simbologia quasi voglio dire banale potrei dire dove Cristo si vede bene il sole cristico si vede bene ecco mi avvio a chiudere che caratteristica ha anche questa lupa che è un'idolatria ecco tra l'altro questo è molto interessante anche credo per voi i termini con cui Dante descrive la lupa all'interno del poema sono quelli dell'idolatria e dell'adulterio per cui mentre invece Dante contrappone a questo lo sposalizio per esempio di Francesco con la povertà quindi il tema del matrimonio non letto dal punto di vista di grande simbologia biblica direi non letto dal punto di vista sacralità ma letto dal punto di vista di simbologia biblica è quello appunto di un adulterio e di un'idolatria è invece del vero sposo o della vera sposa così Francesco sposa ma non la povertà e infatti Dante dice al verso 100 intanto notate versi 97 e a natura si malvageria che mai non empie la bramosa voglia e dopo il pasto ha più fame che pria cioè che cosa voglio dire qua noi dobbiamo leggere questo testo non solo tradizionalmente come l'abbiamo letto come descrizione della cupiditas interiore certo che è questo anche certo che è il demone meridiano della cupiditas questo ma è anche un sistema storico tutte e due le cose io in genere anche quando provo a portare il mio modesto contributo a Dante non voglio mai perdere ciò che è stato fatto dagli interpreti precedenti perché come dire mi confronto con umiltà con quello che è stato fatto prima credo che bisogna fare il tesoro del grande lavoro critico che è stato fatto sulla commedia quindi secondo me va bene mantenere il significato come dire più universale di questi versi bisogna anche accorgersi che questi versi vanno storicizzati e in più vanno attualizzati vanno attualizzati che cosa hanno da dirci oggi qui ed ora questi versi indipendentemente dal fatto che Dante prevedesse o no Dante non prevedeva perché non era un indovino quindi non prevedeva niente gli indovini gli mette l'inferno quindi non è un indovino ma oggi questi versi però risuonano certo dici dopo il patto più fame che pria e notate com'è questa lupa molti sogli animali a cui si ammobbia eccola adultera si apprende tutto si impossessa di tutto anche questo è straordinariamente attuale come questo sistema si impossessa di tutto di tutto anche della pandemia si impossessa questo sistema diventa anche questo un qualcosa di cui questo sistema responsabile sotto tanti punti di vista di ciò che succede se ne impossessa ed è da legge e regole credibile però la vitalità diabolica della lupa diabolica perché poi la lupa deve tornare da Lucifero da dove è ripartita quindi la lupa è questo anche molti sono gli animali a cui si ammoglia e più saranno ancora eh sì è vero saranno molti ancora infin che il ventro il cane da caccia verrà che la farà morire con donna cioè capite che il cristianesimo di Dante è un cristianesimo conflittuale cioè c'è un conflitto comunque con questa lupa cioè c'è forza che il cristianesimo di Dante comunque sia quindi c'è un conflitto con la lupa questi non ci berà terra né dentro chi è il ventro indipendentemente da chi sia il ventro fiumi di interpretazioni ma Dante non lo ha detto quando Dante vuol fare i nomi e cognomi li fa chiari quando non li fa è perché per tante ragioni sceglie quindi che sia can grande a rigossettivo il Cristo stesso Dante il suo poema è un principio speranza questo è il ventro sicuramente è una dimensione presente anche in ciascuno di noi io credo questo ventro che non si ciba né di terra né di moneta quindi è un principio antiaccumulo ma di cosa si ciba ma di sapienza amore e virtute e sua nazione sarà tra feltro e feltro verso travagliatissimo ma la sua nascita sarà nella povertà nel feltro fa uno straccio ecco qui avete sapienza amore virtute sapienza probabilmente il figlio amore lo spirito santo virtute il padre ma avete anche conoscenza amore azione abbiamo qui un cello della mistica trinitaria di Dante questo primo canto c'è tutto non è mica solo l'introduzione l'inferno come vi dicevo prima ecco che quindi è preannunciato questo come dire questa dura lotta contro questa questo cioè Dante che io cittavo dicevo all'inizio è non dualista dall'altra però historicamente accetta la conflittualità invece perché comunque il non dualismo di Dante non è irenico qui è pista ma non è tanto aposto così no naturalmente no del resto insomma voglio dire l'uomo che ha cacciato i mercati dal tempio è quello che dice io e il padre siamo una cosa sola e quindi voglio dire c'è la vetta la mistica però c'è anche la conflittualità in questo caso con qualcosa che si oppone con il regno di quella umile Italia affia salute per cui morì la Vergine Camilla e Uriolo e Turno e Niso di Ferud questi la caccerà per ogni villa finché l'avrà rimessa nello inferno la onda invidia prima di partirla interessante e chiudo qui anche il tema dell'invidia anche questo è interessante qualcuno parla società del rancore società dell'invidia così come credo voi nella vostra comunità costruite un'altra terra un altro modo di stare al mondo pur nelle fatiche quella che invece Dante descrive l'inferno è in terra l'inferno è in terra prima che essere dopo e l'inferno è abitato da queste tensioni ecco io mi mi fermerei qua magari chiudendo anche sul fatto che pagina 2 che come dire questo questo messaggio dantesco così profondo così lucido così forte anche è un messaggio è un messaggio che resta un messaggio di speranza quindi la lucidità di Dante è una lucidità sofferta accorata in alcuni punti però è una resta un messaggio di appunto di speranza e di liberazione quello che il poeta trasmette quindi è importante anche qui vedere come la forza della denuncia non sia la forza di una denuncia disperata per l'amor del cielo poi anche le denunce disperate se sono vere hanno qualcosa da dire però non è così quella dantesca quindi il mondo che Dante raffigura da una parte è il mondo infernale segnato quindi da queste tragedie storiche interiori e storiche il mondo purgatoriale che potremmo dire forse è il mondo che noi potremmo sentire più vicino a noi che è la possibilità di ricostruzione di un altro modo di stare al mondo naturalmente poi c'è il mondo paradisiaco in Dante anche un mondo realizzato di integrazione però il mondo purgatoriale dopo aver attraversato tutti questi abissi che Dante ci porta a vedere si esce a rivedere le stelle e quindi Dante resta il profeta anche della critica e dell'utopia dove io do un significato assolutamente positivo cioè come di terra più giusta non di regno felice e pienamente realizzato ma di terra più giusta di terra promessa in qualche modo Dante resta come dire resta certo di questa possibilità di questa possibilità anche storica e quindi la descrive così nei versi del canto 2 di Purgatorio da Pomba stava il celestiale nocchiero l'angelo tal che faria veato pur descritto e più di cento spiriti entro sediero su questa nave che indica il viaggio di Dante il simbolo del viaggio ci sono cento spiriti cento naturalmente un numero simbolico c'è una comunità all'interno di questa nave comunità che avete visto fino adesso non abbiamo visto perché eravamo del regno della lupa che distrugge la comunità che annienta la comunità e cosa cantano in esito Israele ed Egitto cantavano tutti insieme ad una voce cantano tutti insieme ad una voce quindi sono insieme e unisoli sono una comunità che sono la nostra vita nella quale c'è ciascuno di loro e cantano naturalmente appunto il salvo dell'esodo con quanto di quel salvo è poscia scritto poi fece il segno l'ora di santa croce ondei si gittà tutti sulla piaggia ed el se in gi come venne veloce notate che si buttano hanno in questo viaggio hanno voglia però appena arrivati a terra si buttano sulla piaggia la diserta piaggia dell'inferno uno diventa la nuova piaggia il nuovo deserto anche da attraversare cioè un nuovo deserto da attraversare però di una storia da costruire diversa ecco a me sembra che Dante ci lasci come messaggio da una parte la costruzione di un'idea di un uomo diverso di un'antropologia diversa tra ciascuno di noi per costruire intanto questa comunità dentro di noi e poi per costruire questa comunità fuori di noi insieme e per costruire quindi una nuova storia che non esaurirà il mistero del regno naturalmente non esaurirà il mistero del regno però il mistero del regno probabilmente è paradigma però dall'altra come dire quella quell'escatologia ha bisogno anche di questa costruzione storica nuova quindi questi purganti si gettano sulla pioggia desiderosi di affrontare questo cammino che affronteranno cantando e viaggendo come dice Dante nel figatorio cantando e viaggendo perché sarà un cammino faticoso costruire una nuova storia è un compito atto ci sembra impossibile ecco però Dante è cantore anche di questa io direi di questa possibilità ecco è cantore di questa possibilità o forse di questo impossibile nella fede mistico critico politica di Dante ecco sono alcuni rispondi grazie 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 che non è che ancora una volta diventa un momento importante ma la cosa bella è che per me mi ha risposto in tutti allora io stavo la ventesima volta ho conosciuto lui stavo la ventesima volta che seguo quello di oggi che dovendolo fare per la prima volta loro hai fatto un discorso su quali che possono essere i concerti voglio dire che c'è dietro tutto il fatto di Vassi e io avendo sentito per tanto tempo prendendo partendo non come adesso sei concerti generali ma partendo da un canto ecc mi stupisco sempre di più e sto amando Dante in un modo pazzesco ma come questi concetti sono espressi e stasera mi meraviglio perché ci ho trovato la verità in quello che tu hai detto in termini generali diciamo perché mi viene ricontandomi i cantici che hai detto e ricontandomi ultimamente il fatto il paradiso e diventa fondamentale qui non hai nominato una cosa che è per me fondamentale ma è proprio l'uscita quando hai detto l'ultima volta che in nome di questo specialmente alla fine che hai detto c'è una speranza che hai tirato fuori il discorso che dà la perdita in questo mondo del concetto di contemplazione che diventa che nel paradiso invece l'uomo arriva a questa voglio dirmi armonia che nasce perché ha perso nasce quando venuto il concetto di contemplazione però hai specificato ancora più bello che unisce dentro di sé la conoscenza e il cuore quando questi due vanno all'unisono perché se uno dei due è fine a sé stesso eccetera c'è la disperazione eccetera allora io bravamente come si è arrivato stasera dicevo era il discorso che c'è specialmente nel paradiso si parte dall'inferno si arriva al paradiso e l'inferno è bravo a parlare dell'orrore tutti parlano dell'orrore però si dimenticano del paradiso che dicevano che era una menata io invece dico che è importantissimo perché mai come adesso il discorso dell'ammonia del concetto di contemplazione è fondamentale soprattutto quel discorso finale che è detto c'è un'utopia bella noi viviamo un momento poi qui parlo anche del cinema dove c'è tante cose che mostrano l'orrore ma non c'è quell'altra cosa che io ho imparato di me la concezione salvifica dell'arte dove con l'orrore ci deve essere anche la speranza e qui l'ho trovato stasera hai fatto tutto e mi è piaciuto perché è una conseguenza di tutto ciò che ho sentito è che il contatto lo volevo dire anche per gli altri perché c'è la base è vero che c'è questa quella qua non sono tanto cose che uno può dire avere il suo pensiero uno ce le ritrova da uno come me che non aveva di tante non sapeva proprio una ma però sono dei concetti che se comunque abbiamo diventano simboli e universali l'amonia grazie io raccoglierei un po' di vostre risonanze anche una domanda molto banale però proprio per un preghetto d'altro dove si sarebbe messo così proprio anche rispetto al suo epitelario dove è venuto di essere rifiuto si è arrivato al paradiso però poi esistenzialmente l'altra invece nell'esposizione che tu hai fatto a me è richiesto molto la mistica degli occhi aperti di Metz quindi tutto quel filone della Chiesa della Liberazione che insomma ha alimentato molto un periodo storico della Chiesa adesso è in una fase diciamo di recupero con Papa Francesco ecco e quindi mi è sembrato molto interessante perché appunto propone una visione della mistica che non è disincarnata non è visionaria invece capace di leggere la realtà di proporre un cristianesimo impegnato dove anche per esempio la figura dei religiosi come dire fa un po' da tramo e non a caso sono appunto Francesco e Bernardo le figure che spingono davanti verso qua ecco quindi mi è interessato molto la tua esposizione perché l'ho trovata anche molto attinente rispetto a una certa cultura teologica grazie ti posso chiedere se mi dite il nome così Davide grazie dunque anche io ho domande semplici la prima è come mai Dante non è finito nella censura cristallistica cioè si è permesso di mettere parte di per che i salti su cui determinizzati non è fatto però sicuramente se erano se erano ancora vivi questi fatti non saranno stati un po' distrubati la seconda domanda è una considerazione artistica e politica a me è un'altra futura che non so se c'è Nelina con meglio Caterina la Siena respira lo stesso ambiente che collegamento ci può essere interessante grazie sono contemporanei non è non è mai citata nella coppia è molto interessante grazie allora grazie bellissima conferenza questa volta grazie la dico in diretta di solito e le ho metto su Facebook allora io non so se relazione sia una parola plastica è probabilmente una parola un po' abusata utilizzata in contesti diversi sociologico giudico scientifico matematico eccetera e come ascoltandovi oggi mi viene da dire da pensare che allora va che c'era di Dante è il poeta della terra e oggi mi viene da dire che Dante è il poeta della relazione ma la relazione è nel senso più profondo e trasversale del terzo relazione che è alla base della umanizzazione come siamo sapiens della specie umana ma poi durante la vita dobbiamo umanizzarci e ci umanizziamo perverso il cammino la base di questo cammino di umanizzazione ci porta poi ad essere anche i capas dei come hai detto perché umanizzarsi significa diventare un desideri è proprio la relazione senza relazione questo cammino non può essere facile quindi Dante ci propone un cammino di umanizzazione in questo senso chiudo con hai fatto un riferimento al canto del sole che sono particolarmente caro di paradiso dove ci sono queste due corone di sapienti hai citato come queste corone di sapienti tutti i santi beati certo saldi non c'è dubbio sono tutti là in paradiso che sulla terra tra loro avevano profonde differenze erano fieri avversari quasi quasi nemici e adesso vassù tutti insieme cantano danzano peraltro come donne ma perché lo fanno questo che chiudo e arrivo al discorso che facevo prima perché si sono in fondo spogliati della ipertrofia che non vengono da quanto santi siano cioè passatevi il termine che non è proprio giusto però è quello che mi viene in mente si sono un po' spogliati se posso dirlo dalla loro superbia hanno mollato tutto sono diventati essenziali e allora nella loro essenza maltenendo il distizio possono convivere in modo assolutamente armonico quindi è questo forse che tanti ci suggerisce relazione attraverso l'umiltà giù grazie francesco io sono Roberto sì nella ricerca abbiamo visto una traumatizzazione della verità comedia di Lucilla già in Onisi mi è piaciuta molto e lei ha parlato ha parlato di una realtà di tre bestie sì spesso desiderio superbia sì in un certo senso lei ha parlato della ricchezza definitivamente la brava possedere le cose la brava del possesso delle persone desiderio la brava del possedere addirittura quello che aspetterebbe Dio lei ha parlato principalmente della ricchezza che ha il proprio potere invece mi rendo conto che il argomento è basso se potete dire anche qualcosa che riferimento alla superbia e alla pubblicia nel senso carina del terreno sì va bene grazie grazie sono aperto sì riferimento all'attualità di Dante sì ma che mi ha interesse in tutti gli scelto sì in realtà mi sembra sia davvero molto lucido nel fare una critica di quelle che sono le forze distruttive del suo tempo che in qualche modo non si vengono facendo male lei ritrova anche nel nostro perno in qualche modo in parallelismo sì date anche delle piste per poter in qualche modo aprire delle strade che possano in qualche modo essere del fito attorno a queste come fare per essere tra forse queste forze distruttive del capitalismo e così via molto importante certo grazie se c'è un po' il tema del viaggio mi sembra che questa capacità di dare a ritenere insieme con realtà diverse sia un po' come dire legato al tema del viaggio che solo viaggiamo cioè solo rimanendo stabili occupando spazi con il tempo che supera lo spazio però la dimensione del tempo supera lo spazio la dimensione del tempo il viaggio anche nel mezzo del cammino di nostra vita dove appunto estando dentro questo cammino questo viaggio che poi riusciamo a trovare la possibilità se poteva approfondire questo aspetto va bene c'è qualcosa da casa anche no non è arrivato niente no ok va bene allora magari facciamo questo giro poi vediamo se al solito io lo dico sempre però per me è proprio importante anche nel dialogo io non ho risposto su queste cose ma risuoniamo insieme proprio mi verrebbe da dire come piccola comunità ermeneutica anche dove si interpreta si legge insieme e si sentono risuonare le cose no perché questi sono secondo me temi su cui poi abbiamo bisogno di raccogliere i frammenti e lo possiamo fare solo un po' come gli spiriti del purgatorio tutti insieme cantando e forse anche piangendo insieme allora Celeste si è vero che questa sera ho provato anche se i temi sono così vasti che come dire spero che qualcosa insomma sia passato di alcuni aspetti fondativi della della commedia all'altra volta ecco Celeste è venuto ad ascoltare una lettura di Paradiso XII il canto di San Domenico in Dittico con Paradiso XI e avevo impostato il lavoro su Paradiso XII mostrando che Domenico mi sembrava un contemplativo attivo o un attivo della contemplazione ecco per cui Dante lo descrive come un uomo come dire anzi quasi più di Francesco per quanto sia devoto alla conoscenza cherubica quindi dovrebbe essere un uomo da una parte della conoscenza dall'altra però appunto lo descrive come un torrente che si scaglia contro gli sterpi dell'eresia della mancanza di verità quindi è un un uomo appunto addirittura di cui Dante mostra più l'opera che non la persona quindi un uomo disciolto potremmo dire nella sua opera dall'altra però ci sono dei punti in cui Dante sottolinea anche la fortissima mistica di Domenico addirittura quando lo raffigura bambino steso a terra tacito ed esto così dice Dante tacito ed esto un altro simolo dove dice io sono fatto per questo quindi c'è un'immagine assolutamente incredibile come capita le volte di Dante da rimanere stecchiti Dante da una parte prendendo da qualche biografia probabilmente il Domenico ma dall'altra con il suo genio poetico immagina questo bambino che la nutrice trova a terra e lo imprende in mano lo trova tacito e desto che dice io sono venuto per questo e quindi questo aspetto di un Domenico anche sprofondato come dire della sorgente è da lontra del testo e quindi sì Celeste un altro modo di dire quello che ho cercato di dire oggi è che sicuramente Dante contemplazione e azione che sono due ambiti per noi anche completamente persi completamente persi perché intanto la nostra epoca è un'epoca anticontemplativa quindi non favorisce la contemplazione che ha bisogno di tempi e ritmi come voi sapete meglio di me la nostra è un'epoca quindi che attacca secondo me la contemplazione radicalmente e invece porta l'attivismo che è diverso dall'azione dall'azione febbrile e invece della mistica lì Dante sembra che contemplazione e azione non siano la stessa cosa ma dall'altra non siano disgiunte Domenico è un uomo tacito ma desto è un uomo quindi capace di sprofondare dal silenzio e dall'altra capace di agire forse come Dante stesso insomma per cui è interessante in effetti quest'altro binomio che avremmo utilizzato l'altro giorno potrebbe essere noi li diamo in una scissione ecco queste sono le scissioni di cui parlavo all'inizio non sono drammatiche però queste scissioni dentro di noi sono drammatiche sono scissioni di una cattiva antropologia però ecco per cui il lavoro è un lavoro comunque controgemonico c'è un lavoro di costruzione di un'altra cultura anche un'altra storia si costruisce con un'altra cultura che sia fedele alle radici della tradizione perché la tradizione al di là del nido del progresso è ricchissima di questi noi sappiamo che la tradizione che nel passato c'è il futuro come mi piace dire tante volte il futuro del passato il passato conserva una vitalità straordinaria che ha bisogno di essere riattualizzata non presente che ha dimenticato questi aspetti almeno nel mainstream naturalmente questa come dire critica radicale non significa i cammini personali o anche di gruppi o di comunità che vanno in un'altra direzione di Vandio però il mainstream è quello per cui sicuramente poi Dante porta un'arte che è salvifica forse sempre la grande arte risveglia ma questa è un'arte oggettiva cioè un'arte in qualche modo nata dall'arte biblica e quindi è un'arte che ha questo scopo comunque di salute di salute che assume un significato ben diverso solo dalla salute odierna naturalmente ben diverso dalla salute odierna quindi è un'arte di salvezza quella di Dante senza dubbio probabilmente è anche dove Dante ha vissuto anche una storia della sua salvezza però anche la salvezza della storia anche la necessità della salvezza della storia mi ricollego un po' Davide a quello che tu portavi intanto Dante dice abbastanza chiaramente dove si collocerebbe tra i superbi in purgatorio quando passa nella balza dei superbi dice io qui ci dovrò restare un po' quindi c'è questo questa il Dante personaggio sa che lì con questo masso sulle spalle che lo deve rendere appunto umile questo è il anche qui il discorso è grande che cosa significa poi probabilmente questa superbia di Dante non credo che sia la superbia mistico-critico-politica di Dante forse sono state altre tentazioni che Dante ha vissuto forse tentazioni ti liberivano dalla sua grande mente oceanica probabilmente no? da pensare che potesse forse con questa grande mente oceanica trovare risposte invece non sono stati il cammino è stato ben diverso insomma anche perché poi Dante in questo cammino di viaggio si presenta fin dall'inizio in un modo molto diverso non dimentichiamoci che il cammino inizia con un uomo disperato un po' particolare è vero che potremmo dire una mistica di conversione no? un poema della conversione anche quello dantesco però è interessante che il mistico Dante si presenti come un povero Cristo disperato perso in un bosco è un'immagine molto forte molto onesta anche se volete no? cioè insomma non è che Dante si presenta subito come un maestro Eckhart no? e si presenta come un povero disperato perso che piange e che quando incontra il suo mito Virgilio si vergogna di incontrarlo proprio in quel momento che lo vede così come dire proprio ridotto a no? è un esule anche ecco tra l'altro io ho affrontato poco il tema davvero un povero e anche questa è una cosa molto importante ma che che posso come dire sulla quale posso risponare qui con voi più di quanto lo possa fare abitualmente l'idea che Dante sia un pauper che sia un esule che sia una pietra scartata è secondo me molto importante forse anche nel mistero della sua vita dell'esperienza che ha fatto sentendosi perduto sentendosi pecorella smarrita sentendosi uomo che era nella vita nuda perché Dante è stato un esule che probabilmente in alcuni momenti della sua vita gli poteva capitare di tutto e in fine conti se fai fuori un uomo così non devi rendere conto a nessuno perché sono spazi di una vita che è una vita fuori da Dante è stato un uomo fuori dalla comunità anche ha fatto esperienza dell'essere rigettato questa probabilmente è la croce anche di Dante che percorre la Commedia anche anche qui non credono nonostante tutto lo dico sommessamente che Balta salveva bene la croce della Commedia è se il Cristo della Commedia è Gesù storico è Gesù risorto la croce della Commedia è presente ovunque anche la discesa agli inferi è la croce che Dante sta vivendo la croce storica che ha nessuno l'esilio la condanna la condanna a morte Dante è un mondo andato a morte in contumacia tra l'altro confisca dei beni non può essere seguito dalla famiglia cioè c'è tutto questo aspetto di essere un po' come dire un uomo tra virgolette che ha vissuto anche la maledizione della legge un uomo maledetto dalla legge anche ecco quindi questo però per risponderti Davide accendando questo tema della superbia che è un tema che ha interessato i critici su cosa possa significare dall'altra ecco io trovo molto prezioso molto consonante anche con il mio modo di leggere Dante recuperare l'idea che Dante sia un teologo della liberazione io lo chiamo poeta della liberazione e anche qui è un ideito perché abbiamo teologi della liberazione oggi un po' purtroppo meno come dire un'esperienza importante credo della teologia del novecento che appunto forse è in ricostruzione però sicuramente vive anche un periodo mi pare faticoso Dante non è solo un teordo un poeta della liberazione quindi questo tema quindi della mistica degli occhi aperti di mezza sicuramente penso che sia importante rileggere quindi questo aspetto di Dante non solo con la categoria della libertà libertà lo cercando ma con la categoria della liberazione che non è una parola che c'è in Dante Dante non usa liberazione però è chiaro che se l'esodo è paradigma anche di ogni ideologia della liberazione questo è un libro costruito sull'esodo anche qui Dante biblicamente parte dall'esodo e torna a Genesi sull'Eden ma ci torna anche lui dopo così come l'esperienza primaria di un popolo ebraico è l'esodo un Dio che ci ha liberato sarà anche il Dio creatore Faunrad e quindi sarà un Dio che non può che avere creato un mondo buono per cui penso che Dante possa servire per rivitalizzare anche i cammini di liberazione è un grande teologo della liberazione italiana anche e questo è importante anche perché io parlo di Dante in Italia Dante è universale però Dante è un grande poeta della liberazione italiana quindi si si fa esperienza non è spagnolo non è del Sud America non è indiano come Balica che è dal catalano anche però è un teologo è un poeta della liberazione appunto italiana quindi secondo me questo è va riscoperto Dante proprio da questo punto di vista cioè il fatto che noi abbiamo delle ermeneutiche di Dante straordinarie e bellissime però dall'altra abbiamo bisogno di portare Dante all'altezza dei tempi o forse noi di arrivare all'altezza dei tempi di Dante anche perché i tempi di Dante come si vede sono comunque tempi che ci tuffano in una profondità che comunque che è proprio terapeutica secondo me ecco per quanto riguarda la domanda che mi facevi quella dell'accensura è molto interessante intanto il monarchia di Dante è andato all'indice quindi Dante non è uscito esente dalla censura ecclesiastica monarchia è stato all'indice per molti secoli un domenicano di cui adesso non ricordo il nome Dante insomma ha onorato il domenico però ha anche bastonato i domenicani e un domenicano aveva iniziato un processo dove sia un'accusa a Dante si discute se Dante è vivo oppure no e la la commedia era stata detta da questo domenicano bastiavoli per cui c'è stato questo questo come dire questa inizio no? poi come dire probabilmente la la genialità poetica di Dante ma forse anche il fatto che Dante fosse poeta perché se Dante avesse detto queste cose solo da teologo probabilmente Dante non avrebbe passato il vaglio della censura ecclesiastica quello che ha salvato Dante io credo che Dante lo sapesse era il fatto che lui usava la poesia considerata l'effettiva di verità è un poeta fa sparate ma non questa insomma ci sono se le cose uove però lo si salva perché è un poeta ecco credo che questo sia un aspetto importante anche della resistenza di Dante no? perché questo poi va anche alla tua domanda Alberto a me sembra che le strategie di resistenza di Dante perché Dante è uno scrittore comunque che scrive anche sotto persecuzione è interessante anche recuperare la dimensione della persecuzione quindi non perché io mi rittimizzo e faccio il perseguitato politico ma perché una certa denuncia porterà la persecuzione quindi Dante ha denunciato voglio dire poteri forti del tempo per usare un riguardo di oggi e ovviamente ha preso un sacco di legnate non c'è dubbio allora la poesia diventa per Dante una per esempio delle strategie di resistenza di Dante perché è uno scrittore sotto persecuzione quindi Dante nei casi è molto chiaro ma le volte allunte cioè come dicevo all'inizio il fatto che lui compia questo viaggio da vivo beh insomma questa era una questione molto dibattuta Tommaso critica Averroè e critica gli aristotelici radicali perché parlano di una possibilità di populazio in vita con l'intelletto agente di unione con l'intelletto angelico e qui Dante è più vicino agli Averroisti radicali potremmo dire anche se non è solo quello una cristificazione ma Dante è biblico in questo caso voglio dire ha in mente Colossesi Efesini la predestinazione di tutto e tutti in Cristo questo è quello di cui sta parlando però probabilmente si è salvato come dicevo per queste ragioni no del suo aspetto poetico dall'altra la poesia è una delle strade di resistenza di Dante l'arte quindi questo è un punto perché Dante ha fatto anche una resistenza politica ma la resistenza politica propriamente detta è stata disastrosa questo poi va naturalmente declinato sulla vita di ciascuno Dante ha detto ma come io posso continuare a essere politico non posso più esserlo nel modo partitico a cui ho partecipato perché sono uscito distrutto da questo quindi l'aspetto dell'arte è un'arte salvisica però appunto un'arte mistico critico politica che gli permetta di bypassare alcune come dire rischi di violenta censura non del tutto per il sospetto appunto che la sua opera in qualche modo che tocca la sua opera quindi c'è questo aspetto cioè mi sembra che Dante abbia avuto bisogno anche di reinventarsi proprio come un uomo torno a ripetere che è stato distrutto abbia avuto bisogno di reinventarsi anche come come persona appunto che resiste alla persecuzione che scrive dentro la persecuzione dobbiamo anche pensare nei primi anni dell'esilio probabilmente sono stati durissimi poi Dante giunge a una relativa tranquillità a Verona però notate anche qui anche la vita frate Luca di Dante sembra la vita di un viator anche quando Dante sta a Verona poi a un certo punto se ne va perché non lo sappiamo forse rompeva le scatole anche a can grande della scala forse che pure stimava molto però probabilmente ci sono aneddoti in cui Dante non le manda a dire neanche a can grande della scala oppure celebra con parole straordinarie della commedia quindi è un politico di cui astima profonda è uno delle possibili identificazioni del vetro poi Dante chiude la sua vita a Verona quindi Dante è un viator Dante è un pastore da questo punto di vista per usare la simbologia biblica cioè insomma è un uomo che continuamente non sta fisso e non ha dove usare il capo anche quindi non è stanziale Dante ecco per quanto riguarda Caterina allora io intanto non ho mai approfondito questo tema bene che bello cioè una cosa di cui dico non so sicuramente Caterina è altrettanto come dire forte nella critica alla chiesa di Dante come se in qualche modo sono due persone anche che proprio sono outsider mi viene anche da dire cioè Dante ha fatto questa esperienza appunto di essere è un pauper è un outsider è un perduto Caterina una donna e quindi credo che sia interessante anche un lavoro compartito tra questi due autori tra questi due mistici anche mistici politici entrambi mistici critici politici entrambi un tema che io però non ho mai mai affrontato secondo me è un canale di studio proprio molto molto importante Francesco il tema della relazione ma sì sicuramente Dante è poeta della relazione delle relazioni infine i conti sì quando ho iniziato il discorso prima parlavo della nostra epoca come l'epoca anche dove invece ci sono le frammentazioni le separazioni e quindi abbiamo bisogno di un altro ma in fine dei conti questo sistema stesso non è innervato sulle separazioni non è costruito sulle separazioni questo sistema anche quando ha buone intenzioni non riesce a produrre relazioni anche quando ci dice che è salutare per noi essere distanziati ci dice distanziamento sociale non fisico ma se siamo distanziati socialmente non siamo più una società quindi non riesce proprio a trovare anche quando volesse essere benevolo non riesce a trovare le parole giuste dato che le parole sono importanti accidenti parli male pensi male per citare insomma una scena di un film capite che sicuramente c'è questo questo problema di frattumazione di stato di coscienza appunto frattumato poi se lo stato di coscienza è predatorio di dominio di accumulo e per questo allora Francesco invece in Dante noi vediamo proprio la costruzione fin dall'inizio di queste relazioni ovunque relazione tra i tre reni inferno purgatorio paradiso relazione tra gli uomini e gli animali fin dall'inizio primo capo è vero che non è direttamente il tema della relazione grazie non è direttamente il tema della relazione però l'uomo e il cosmo la selva oscura il deserto la piaccia relazione con il divino cioè il mondo dal deserto è un mondo dove c'è ancora una volta le relazioni sono la politica in Davide intesa in senso poi anche la politica propriamente detta per cui non c'è dubbio questo aspetto di un invece di uno stato di coscienza che è curvo su se stesso egoico frattumato io non ho approfondito questo tema ma il tema della povertà in Dante è anche questo il svuotamento del Dio e che no si da ricco che era si è fatto povero la povertà di Dante è cristologica è cristocentrica ecco perché invece se mi riempio di io di ricchezze di potere in qualche modo è il regno della rupa che è un regno anticristico ma quindi questo tema la povertà è una povertà anche materiale sicuramente ma è una povertà di genosi appunto celebrata poi in particolare in Francesco che si è fatto così ma è il tema che del resto del primo campo il ventro è povero non si citerà appunto di ma si citerà di sapienza amore virtù relazione conoscenza amore azione molto molto importante questa cosa io l'altra volta parlavo del divorzio tra amore e conoscenza divorzio tra ma anche questo è un dato del mainstream cioè possiamo pensare a una scienza che conoscendo ha di è un grosso problema oggi questo conoscenza dice no no l'amore è sentimentale io devo essere oggettivo possiamo pensare a una scienza contemplativa sono temi grossi invece il divorzio certo che la conoscenza può andare divorziato dall'amore sicuro certo che sì però qui Dante parla di sapienza amore virtù quindi parla di una relazione che peraltro è trinitaria il tema poi della relazione è la trinità di Dante la trinità è relazione è relazionalità radicale solo che Dante non come dire si occupa della trinità intradivina si occupa della trinità economica ad extra ma si occupa anche della trinità radicale cioè che è presente ovunque ciascuno di noi ecco e allora questo tema della relazione è potentissimo anche teologicamente parlando cioè Dante è un grande teologo trinitario e questo è un punto molto molto importante poco è stato scritto sulla trinità in Dante relativamente poco quindi io ho centrato sul Cristo ma il Cristo è il figlio ed è appunto persona della trinità ecco quindi questo mi viene a dire quindi il tema dell'umiltà anche tu dicevi naturalmente l'umiltà è in questo senso che è notico anche che è notico che però ancora una volta ha significato spirituale mistico critico politico non è solo spirituale è critico politico ecco Roberto sono tutti grandissimi temi da riniziare un'altra volta e non è il caso allora forse io ho come dire focalizzato più sulla lupa radix omnium malorum come è scritto però c'è anche la lonza e c'è il leone quindi Dante affronta si trova davanti queste tre bestie all'inizio queste tre bestie tradizionalmente le letture ci dicono che la lonza potrebbe rappresentare la lusulia il leone potrebbe rappresentare la violenza la lupa potrebbe rappresentare la pupillitas queste sono tre identificazioni tradizionali che secondo me restano buone dall'altra allargando un po' e attualizzando un po' si potrebbe dire che la lonza rappresenta tutto il mondo degli istinti quindi la lonza è il mondo degli istinti che Dante si trova di fronte sicuramente anche il mondo della sessualità il leone è il mondo emozionale e la lupa è anche il mondo mentale non a caso che la lupa sia la più pericolosa delle tre perché è il mondo mentale è il mondo della frode anche la frode la penso quindi i peccati classicamente che discendono dalla lonza sono peccati di incontinenza i peccati che scendono dal leone sono peccati di violenza i peccati che scendono dalla lupa sono i più terribili la frode quelli che io penso ecco quindi molto interessante il fatto che l'incontro con le tre bestie sia poi tre bestie che notate Dante vede fuori di sé all'inizio gli sbarrano al cammino e pensa di poter arrivare direttamente al colle però invece si parlano davanti questi tre animali e Vigilio gli dice no tu devi scendere adesso devi scendere devi compiere un viaggio dentro questi tre animali dentro e fuori di me sarà un viaggio perché la lonza il leone la lupa ti abitano e abitano la tua epoca e Dante rappresenta se stesso l'umanità quindi poi ci sono alcuni peccati che lo riguardano più storicamente come uomo Dante Alighieri e ci sono peccati che lo riguardano invece in quattro umanità e quindi ci sarà questo viaggio Roberto nelle zone dell'inferno che sono la zona della lonza la zona del leone e la zona della lupa e quindi è un po' quello che io dico lo yoga cristiano di Dante questo il fatto che Dante affronta questi vizi anche qui personali ma politici anche è molto chiaro in Dante che un uomo comunque che non controlla se stesso qui Dante è rete anche della buona tradizione aristotelica platonica aristotelica un uomo che non governa se stesso sarà un pessimo governante cioè l'idea che la conoscenza e il governo di sé si traduca poi in una conoscenza e un governo buono anche questo per noi non me l'avete perduto anzi per noi se nel mainstream se non è un gaglioffo quasi lo amiriamo ma questo è furbo questo frega bene gli altri no? perché c'è naturalmente Dante e Re dell'etica classica oltre che dell'etica cristiana Platone dice uomo che non governa se stesso non può governare la città e quindi il governo delle tre fiere è il governo ma anche politico e infatti la città Firenze tra l'altro città della lupa ma anche della Lonza del Leone città violenta è qualcosa interessante se io per esempio in realtà si Firenze come città emblematica città dei suicidi per esempio Dante constata come no l'inferno 13 termina con un fiorentino implicato un'immagine terribile città dove gli arricchimenti improvvisi portano poi ai croni quindi una città devastata da tutti questi città del mal costume che date emblematicamente come exemplum Firenze diventa anche l'exemplum da una parte perché date toccato da vivo evidentemente però dall'altra diventa l'exemplum di quello che può succedere ecco un genio forse Roberto quindi a pensare come queste tre fiere che non sono però solo negative perché questo è anche interessante queste tre fiere compaiono delle tre quella più negativa è la lupa le altre due sono connotate comunque con la loro grande forza anche la lenza per esempio dalla galletta pelle comunque hanno una loro misteriosa bellezza e fascino naturalmente vanno conosciute come dire integrate domesticate potremmo dire così allora Alberto la domanda che poni è molto complessa allora a me sembra che le vie che Dante propone sono varie diciamo tre ne esemplifico tre allora intanto che non è in contraddizione con quanto ho cercato di dire oggi la via interiore cioè comunque essere male in un mondo che svina io cerco di non sviare in un mondo che si perde io cerco comunque di costruire un altro modo di vivere e quindi il cammino di Dante è anche il cammino di un uomo che appunto vive la cristificazione vive un cammino di conoscenza un viaggio di conoscenza di amore di sapienza di amore virtute naturalmente Dante non crede che noi possiamo essere felici in un mondo ingiusto questo è altrettanto radicale cioè la felicità è una felicità che si costruisce insieme però dall'altra questa via mistica rimane in Dante come una possibilità cioè il fatto che Dante dal paradiso denunci durissimamente la situazione della giustizia però viva anche dei momenti di straordinaria gioia non è che Dante come dire nel paradiso ormai dice basta ormai sono fallito nella storia e mi dico le mie estasi no? perché potrebbe anche essere così la spiritualità non è compensatoria in Dante però dall'altra vive delle estasi nonostante la situazione in terra sia pessima ecco quindi secondo me questa via rimane potrei dire che è una via parziale incompleta sotto alcuni punti perché Dante rappresenta se stesso quindi un uomo che si risveglia un uomo che risorge però Dante vede anche che l'umanità fatica e questo lo fa soffrire e quindi non è adesso analizzando perché faccio la caricatura di un'altra categoria di un'altra religione o di un'altra filosofia non è un urbano perso così no? quindi questo secondo me rimane secondo punto Dante costruisce l'archologia dell'utopia dell'impero quindi per Dante bisogna pensare a un sistema politico nuovo e quindi il sistema politico nuovo o comunque sia nuovo con le istituzioni che Dante ha di fronte è quella dell'utopia dell'impero quindi potremmo dire adesso semplifico molto perché l'argomento è complesso potremmo dire che Dante allora si rende conto che il sistema di prima non funziona il feudalesimo non c'è nessuna nostalgia del feudalesimo la nascita dei comuni ha degli aspetti positivi ma pericolosi perché i comuni sono particolaristici quindi Dante si trova un feudalesimo accumulatore di terre comuni che litigano tra di loro e un'istituzione imperiale che appunto non fa più il suo compito allora Dante rivitalizza questa idea dell'impero che pensa come potremmo dire come una sorta di Europa Unita sono i nomi mi spingo voglio dire semplifico molto e sono un po' ardito un'Europa Unita che si è rappresentata da un potere spirituale e da un potere politico il potere politico è rappresentato dall'imperatore il potere spirituale è rappresentato dal Papa e c'è un'interazione tra di loro anche se sono pienamente distinti questo è molto importante nel pensiero di Dante la distinzione quindi nessuna tentazione teocratica nessuna tentazione cesoropapista addirittura Dante è più duro col Papa perché il Papa in quella frangente storico che è più teocratico Innocenzo III soprattutto Bonifacittavo poi il Papa scismatico Clemente V ad Avignone Giovanni XXII sono al soldo in qualche modo di Filippo bello per cui Dante peste e corna Allora la via dell'impero è una via come potremmo dire anche qui utilizzando parole moderne è un'idea che sembrerebbe confederativa dove sembra di capire che la monarchia universale di Dante sia una monarchia che mantiene le differenze che mantiene le differenze quindi io resto fiorentino io sono florentino io sono italus dice Dante io sono florentino poi sono italus e poi sono cittadino civis dell'impero quindi sono fiorentino nato in un luogo specifico sono italiano anche se l'Italia ancora non esiste ma Dante si definisce italus e poi sono civis dell'impero la funzione dell'impero è quella di Argine Pagliuitas ecco quindi in qualche modo in Dante potremmo dire allora come questo va interpretato lo dobbiamo riattualizzare in Dante ci deve essere un freno della politica la politica ecco questo è il punto come poi questo si traduca oggi dopo siamo alcuni oggi dicono lo Stato ma discussioni complesse evidentemente però la politica notate che in questo non c'è l'economia è molto interessante questa cosa cioè l'economia che è invece l'unica cosa di cui si parla oggi in Dante non è nominata perché è incorporata dentro questo sistema non è disincorporata e quindi ecco che questa è la via in qualche modo dell'imperiale la terza via che potremmo dire è la via più utopistica delle tre è quella del regno cioè io ho l'impressione che da una parte è vero che l'impero costruisce un regno più giusto nel mondo però dall'altra Dante è qui anche come dire probabilmente un fedele cioè l'impero è una realtà definitiva oppure no Giochino da Fiore parla di una terza età dello spirito in cui ci sarà comunità scomunione in cui certe distinzioni che costituiscono la nostra vita nell'età del padre e del figlio non ci sono più ecco per cui mi sembra che questa terza idea in qualche modo anche tocchi la visione lantesca probabilmente queste tre vie da una parte trinitariamente sono interrazionate però è come se Dante provo a dire meglio abbia pensato che la declinazione imperiale fosse una declinazione in quel momento utile ovvio per esempio che oggi noi non potremmo più declinare l'utopia di Dante così perché sono cambiate le categorie per noi impero una parola inquietante ci farebbe venire in mente un reich un imperialismo assolutamente Dante usa istituzioni ben disidivide sul tempo ma non credo che Dante pensi che queste istituzioni esauriscano la creatività di questo regno e quindi c'è questa terza via che sotto tanti punti di vista è rappresentata per esempio da Francesco anche nella Commedia e quindi c'è questa terza via di una radicalità del regno più forte ancora ecco escatologica però direi anche no cioè Francesco non chiamava a un altro modo di vivere tutti la Commedia non chiama a un altro modo di vivere tutti poi questo avrà bisogno di concretizzazioni statuali istituzionali però c'è nella Commedia questa idea di una chiamata a un modo di vivere evangelico potremmo dire così a una chiamata di vita evangelica del regno di Dio e quindi io credo che questo sia il terzo aspetto e naturalmente Dante sa che questa cosa la può dire con la poesia per esempio l'arte è una via per cantare il regno di Dio in un modo che non è contro le istituzioni ma che non è esaurito nell'endopia degli spero tanto che a un certo punto di Eugidio il corona Dante è sacerdote imperatore di se stesso a dire in un mondo in cui il papa non fa il papa e l'imperatore non fa l'imperatore io intanto ti do facoltà di parlare come se tu fossi un sacerdote un papa e un imperatore che è una cosa incredibile anche ecco queste sono le vie intrecciate proprio perché poi Dante è un uomo che ha vissuto la perdita la sconfitta e quindi ci lascia secondo me intrecciate queste vie sicuramente però una via politica in cui siano implicate nuove istituzioni rinnovate perché l'impero di Dante non è mica l'impero che c'era con apertura interessante il papato varrà per i cristiani come dice Dante l'imperatore sarà più universale del papa perché il papa vale per i cristiani gli sciti invece no faranno fatica a riconoscere il papa questa è un'apertura pluralistica di Dante mentre l'imperatore è un imperatore universale che si rivolge a tutti quindi Dante mette queste queste aperture molto molto interessanti non è solo un mondo cristiano quello che pensa Dante è un mondo anche sa benissimo che ci sono zone del mondo dove appunto i pagani le persone non vicine a Cristo è un problema interessante per Dante questo è un problema su cui riflette tutta la commedia e quindi a me sembra che ci sia quindi una via individuale una via dell'impero e una via del regno di Dio non so come dire della sua creatività ecco nella sua creatività questi mi sembrano tre aspetti Alberto che ecco il tema del viaggio frate Luca un po' forse è un po' è un po' è un po' emerso forse su su questo aspetto e del resto voglio dire la commedia si chiude e anche io chiudo con l'illuminazione di Dante come dire compreso della nostra effigie con l'amor che muove il sole e le altre stelle ma poi Dante torna e scrive la commedia quindi il viaggio non è finito neanche lì perché in fin di quando poi Dante torna non rimane lì in estasi scende e scrive la commedia e quindi da una parte la commedia racconta come canto finale l'illuminazione di Dante dall'altra però Dante è tornato da quell'illuminazione perché la commedia non l'aveva ancora scritta quando ha vissuto l'illuminazione ma quindi è interessante questa cosa qui potrei dire cartiante insomma se vedi la grande estasi però tu fratello tua sorella ha bisogno per tu di preparare la minestra vai a preparare la minestra e Dante ci ha preparato questo piatto straordinario questa prelibatezza poetico nutritiva che è la sua commedia ed è tornato insomma a fare poco poi da artigiano e a lasciarci questa meraviglia grazie 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 grazie